Calamità naturali, quali bombe d'acqua, incendi, spaccio nei boschi e baby gang, spesso responsabili di atti di vandalismo anche in centro città, controlli capillari sui mezzi pubblici e nelle stazioni. Queste le priorità emerse dall'incontro organizzato a Palazzo Bruletto a Gallarate e che ha permesso al prefetto Salvatore Pasquariello di incontrare i sindaci della zona per parlare delle problematiche legate a protezione civile, ordine e sicurezza pubblica. L'incontro richiesto dal prefetto ha goduto della partecipazione dei vertici delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, del presidente della provincia Emanuele Antonelli. A fare gli onori di casa il sindaco di Gallarate Andrea Cassani, presenti i sindaci di Albizzate, Angera, Arsago Seprio, Besnate, Cadrezzate Conosmate, Cardano Alcampo, Casale Litta, Casorate Sempione, Cazzago Brabbia, Comabbio, Gola Secca, Inarzo, Ispra, Ierago Conorago, Mercallo, Mornago, Ranco, Sesto Calende, Solbiate Arno, Somma Lombardo, Sumirago, Taino, Ternate, Travedona Monate, Varano Borghi, Vergiate e Vizzola Ticino.